Mauro Oscala, direttore sportivo della Rivarolese. Cominciamo, che obiettivo quest'anno? L'obiettivo è la salvezza, un po' più tranquilla dello scorso anno. Comunque il nostro obiettivo è sempre quello, rimane quello. Quali sono i nuovi arrivi quest'anno? Abbiamo preso Sergi dal Borgaro, abbiamo preso Ferraro dal Orizzonti Unai fino a dicembre, poi Pavarolo nella seconda metà della stagione e Corradin dal Real Canavese. Sergio Gatti, nuovo allenatore, un allenatore con tante esperienze? Sì, con molta esperienza, che lavora con i giovani, con quelli meno giovani, ha accumulato in questi anni una notevole esperienza, sarà affiancato da un preparatore atletico, che è un mister, anche lui, ed è a Ragusa. L'obiettivo è la salvezza, magari con qualche meno affanno rispetto alla passata stagione? È quello che ci auguriamo, se riuscissimo a qualche giornata dalla fine a essere già matematicamente salvi, il nostro obiettivo sarebbe centrato. Anche quest'anno un cocktail tra giovani e vecchi, con tanto spazio ai vostri ragazzi? Eh sì, l'obiettivo della società è appunto puntare sui giovani, sul nostro settore giovanile, quindi chiaramente punteremo anche quest'anno su quello. Ci vuole il cocktail giusto, come tu giustamente dicevi, qualche vecchio nei posti giusti per ammagamare il tutto. Grazie a tutti.